Ehi la, eccoci qua con il nostro secondo video sulle strategie, le sette strategie per prendere la bullrun per le corna E allora vediamo un attimo che facciamo dopo il primo video in cui ho fatto una sorta di carrellata presentando tutte le strategie possibili Adesso faccio un video alla volta presentandole in maniera migliorativa, strategia per strategia Tutte strategie che sono fatte da me, che verranno comunque sempre aggiornate nel gruppo Telegram e che comunque abbiamo male nei video Poi parlerò di queste cose qua, ecco Allora partiamo comunque dalla prima che dicevo, volevo saltarla perché è facile, non è detto che sia così facile Se fosse così facile tutti dicono, entro da Bitcoin, esco da Bitcoin, entro da Bitcoin, esco da Bitcoin nel momento giusto, nel momento preciso e sarebbero tutti ricchi E non è comunque così facile, quindi volevo comunque partire sempre dalla prima, la strategia diciamo, spitcoin, eh sì, spitcoin, bello La strategia spot Bitcoin, insomma, investo, compro Bitcoin, no o no, vendo o no, sorto, lasciamo perdere Volendo uno poteva anche sortare, però quella è roba avanzata, è solo un investimento qua Tempo minimale, nozioni minimali del tipo on, off, compro o non compro, vendo o non vendo, short, lasciamo perdere Allora, che cos'è che userei io, uso io o comunque come analizzo Innanzitutto la base fondamentale di tutti è sempre analisi tecniche Adesso andiamo su un grafico pulito classico Siccome il nostro grafico history è un po' sporchicciato Prendo comunque un grafico magari di Bitcoin Vediamo sempre che abbiamo proprio un po', ecco un beat stamp Vediamo, deve avere un po' di storico, via, Kraken Avrà sicuramente un sacco di storico, Kraken Vediamo quanto storico ha, perché dobbiamo fare un po' di simulazioni, analisi, bla 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 Ok, non so quando, comunque ho disegnato qualcosa Cancelliamo anche quel poco che ho disegnato Togliamo tutto e iniziamo a fare i nostri ragionamenti Quindi, quando essere, diciamo, investitori o meno di Bitcoin In base ai parametri Allora, le prime cose che abbiamo detto velocemente nell'altro video È che si possono usare indicatori o quella roba lì Diciamo come una view oggettiva Però ricordate sempre una cosa Un indicatore o una media mobile, quello che volete Un oscillatore, un RSI, quello che volete Cioè, sono, che siano, non so, leading o lagging indicator Quel cavolo che volete, ce ne sono centonnaia di milioni No, sono sempre di supporto a un'analisi tecnica anche basica Primo corso, Trend is your friend Vedete, c'è anche il corso gratuito su YouTube Primo corso, Trend is your friend Trend line, support, resistenze, volumi Cioè, sono comunque da supporto Io vi ho detto, ci sono anche delle cose oggettive Giusto per vedere che non è solo totalmente discrezionale la valutazione Però, sono sempre di supporto Cioè, tu devi saper guidare una macchina Poi, come supporto, hai il navigatore E magari, sì, ti aiuta Perché ti aiuta a dire, guarda, gira prima di là, eccetera Ma se tu non sei capace a guidare E ti metti in navigatore Non sai neanche come cazzo si usa un volante in afflizione Cioè, sbatti contro il primo palo lo stesso Cioè, non è che l'indicatore magico improvvisamente ti fa fare i soldini Ti fa capire quando entrare on-off Se non capisci una sega di analisi tecnica basica, almeno Quindi, on-off Quindi io direi, partiamo ad esempio da un punto a caso E cerchiamo di capire Cioè, la faremo O sto chiudendo gli occhi, anche se non pensate che non sia così Cerchiamo di capire, ad esempio Da questo punto in poi Se era il caso di entrare on-off Facciamo delle simulazioni Per capire un po' la situazione Di come, ad esempio, si approccierei un on-off Allora, prendiamo comunque questi indicatori Allora, la classica SSL Hybrid Che è sostanzialmente una sorta di media mobile Un po' strutturata In modo che è un po' più Non veloce, ma non lenta Perché comunque aiuta anche con la velocità Diciamo con Come cavolo si chiama Non è solo in base all'andamento del prezzo Ma è anche in base alla volatilità Ecco, la volatilità, eccetera Quindi riesce un po' meglio a seguire Ovviamente, guardate questa roba qua Andate qua sulle impostazioni Guardate quanta roba c'è Vedete, c'è la TR C'è un sacco di roba da sistemare Togliere, brigare Se non viene un casino No? L'ho cercata di fare un po' a mano Io facendo un po' di simulazioni Però, insomma, capite Comunque il senso che Vedete anche l'indicatore magico Poi, insomma, bisogna un po' adattarlo A base a quello che uno vuole vedere Prendiamo il nostro indicatore ciclico Anche questo, sì Ovviamente Ve l'ha settato Bla 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 E questo non lo trovate su YouTube L'ho avuto Ho praticamente dovuto acquistare Se io Diamo a Cesare Quel che è di Cesare E diciamo Un derivato Dal classico indicatore ciclico Di Sartorelli E l'ha ideato Diciamo Strutturato come In questo modo qua Luigi Garone Che è del canale Cryptoverso Che però ultimamente Non sta più postando niente Io l'ho preso ancora due anni fa Questo Quindi non lo so E ovviamente anche questo Va settato Perché se no Buttato là a caso Non serve a niente E poi Cosa che aggiungiamo Aggiungiamo il money flow classico Con magari un money flow index Allora Questi sono ad esempio I nostri navigatori Però poi Anche quegli navigatori Bisogna come sempre Avere Cioè insomma Analisi tecnica Volumetrica Eccetera Se si vuole Poi il diselezionale Allora In questo punto storico Ad esempio Di Bitcoin Che è il 4 novembre 2018 Siamo a 6.000 Sarebbe tutto short Perché guardate Siamo sotto la SSL Hybrid Qui praticamente fa confusione Il nostro indicatore ciclico Però è più o meno sotto lo zero Il money flow è tutto rosso Poi Tecnicamente parlando Togliamo ad esempio Un po' di roba Questo mi dà fastidio Perché non riesco a fare analisi così Cioè è troppo confusione Ecco Andiamo a vedere ad esempio Come siamo messi Praticamente Come trend is your friend È tutto ribassista Cioè vedete Continui Continui massimi Non ci sono reali Minimi crescenti Però Insomma Si vede palesemente Che non riusciamo più A fare nuovi massimi Anche se di minimi Diciamo Sono piatti Però Non riusciamo a fare nuovi massimi Trend is your friend Quanto meno è neutrale Però è più tendente A ribassista Trend line Non riusciamo a rompere Nessuna trend line Vedete Non riusciamo a rompere Nessuna trend line Supporti resistenza In effetti È un po' neutrale Proprio perché siamo Comunque sul supporto Che tiene Però vedete Che è una vita Che tiene questo supporto E non va da nessuna parte E volumi Molto probabilmente Siamo sui volumi Perché Siamo fermi qui Quindi i volumi Saranno tutti qui Esatto I volumi sono tutti qui Quindi i volumi Siamo lì Però non ci dicono niente Perché siamo lì Da una vita E teoricamente Se andiamo a fare Le pulci E teoricamente Siamo sotto Perché vedete Che alla fine Sì sono qui i volumi Però alla fine Qui continuiamo a perderli Qui siamo rimasti Per un po' Qui fermi qui E poi li abbiamo Rotti a ribasso Tutto rosso Io direi Ciclo trimestrale Short Compro bitcoin No Aspetto Questo è Quindi aspettiamo Andiamo a cosa succede Se cambierà questa situazione Magari Siccome facciamo una roba più veloce Mettiamoci di nuovo I nostri indicatori E vediamo se un giorno Cambierà la situazione Giusto per far vedere Come lavorerei Più o meno No Perché è chiaro Che uno c'è l'indicatore magico Ma l'indicatore magico Da solo Non ti fa niente L'indicatore ciclico Lo userei come terzo Cioè come terzo Prima userei questi due Poi guarderei anche L'indicatore ciclico Perché tanto Se già Sei sotto Questa Già per dire Ok Sì vabbè I volumi stanno girando Però Sei comunque sotto La SSL hybrid È un'indicazione ribassista No È chiaro che poi Con bitcoin Si possono fare strategie Di buy the dip Chiaro Però La strategia di buy the dip Tu la fai Col buy the dip Però sai che non è cambiato niente Cioè non sai che comunque Non sei long Fino a prova contraria Ma sei ancora short Capito Puoi fare Comunque strategia di buy the dip Però il ciclo rimane Trimestrale Rimane short Fino a prova contraria Capito Il sales Quindi Ok Magari puoi anche comprarlo Vabbè Vabbè Un bel supporto Lo compriamo lo stesso Anche se Se sta scendendo Sì Va bene Però Non è Che comunque L'indicazione è rialzista Ecco Mettiamola così Quindi andiamo a vedere Facciamo una simulazioncina Così veloce E va anche troppo lento Però vediamo Siamo Per me fra un po' si crolla A novembre 2018 A memoria Si crolla Ecco boom Si crolla Si crolla Adesso siamo crollati Però comunque Rivalutate la situazione Cioè Quando si crolla Prima o poi Magari che girerà Anche Adesso qui Siamo distantissimi Costa SSL Però vedete Siamo distantissimi Faccio un bai Di tipo Aspetta Ciccio Aspetta Abbi pazienza Abbi pazienza No Perché faccio un bai Di tipo Aspetta Aspetta Perché finché non è finita Questa roba Aspetta Almeno guarda Che inizi Un tentativo Vedi Questo è già un tentativo Di change of character Tentativo Perché abbiamo rotto Questo massimo Però siamo ancora messi male Questo va avanti Io ho messo già stop Da una vita Questo va avanti All'infinito Non lo so Fermati Bello Sto replay Cioè Io ho messo stop Questo qui va avanti Vabbè Andiamo avanti Vediamo il film Tanto comunque Non è cambiato niente Vedete Qui siamo comunque Continuamente rossi Sempre rossi Sempre rossi Questo è sempre sotto Sempre sotto E vedete che in effetti Comunque perdiamo sempre Per terreno Perdiamo sempre terreno Adesso uno Ovviamente Come ho detto Uno può dire Sai cosa faccio Io me li compro Lo stesso Arribasso Ok Adesso se questo si ferma Non lo so Se questo si ferma Potremmo analizzare Che qui iniziava già A esserci Un tentativo Però questo Alla fine Spesso cos'è Il primo tentativo Il primo tentativo Vedete Che comunque Diventa verde Spizzica questa Però non ci siamo Ancora long Siccome questo Va avanti all'infinito E non lo so Ce l'ha fatta Si è fermato Incredibile Si è fermato Ore dopo La mia indicazione Vabbè Ci sta anche Che si fermi Da queste parti Perché in effetti Allora Vedete qui Come iniziamo A tentare Il cambio Allora uno qui Derebbe Guarda Questo è diventato verde Questo è diventato verde Magari prendi anche questo ciclo Che vedete Qui è andato Sul verde prima Questo alle volte È un po' Diciamo Leading Alle volte Però insomma Vedete come è accrociato Prima Un po' prima Poi la realtà Non è proprio così Perché vedete Che qui è tratteggiato Quando è tratteggiato È in evoluzione In realtà Lui Magari Quando eri qui Era ancora sotto Poi in evoluzione Dice Ah guarda Io ho accrociato Nel punto giusto Sì Perché poi Ti ha aggiornato Col seno di poi Vabbè Però ecco Quindi uno qua Direbbe Andiamo Che è fatta Però vedete il punto Che non bastano Queste cose Perché poi Se uno prende comunque Un'analisi tecnica Basica In teoria Bisogna rompere Questi massimi Cosa che non è rotta Abbiamo Rotto Una trend Ni Chiamiamola Ni Perché comunque Insomma Ni Vedete Ni Cioè Poi bisogna comunque Valutare Cosa succede Poi quando siamo Così Sempre così A ribasso Prendiamo la ciclica Sapete come funziona La ciclica Quando c'è un trend Sempre ribassista Magari c'è qui un top Poi inizia a fare La roba del genere Magari qui c'era anche un top Perché siamo A ribasso Da chissà quanto A un certo punto Si scende Si scende Boom Boom Riparte il ciclo Andiamo tutti No No È il top Il trimestrale Precedente Poi fa Il ritracciamento In lingua di Bayer Va Quindi anche Nella situazione ciclica Qua Io strike out Perché questo è il primo Segno di reazione Che è buono Ok Se uno fa speculazione Più di breve Magari anche qui ci prova Se uno vuol fare un buy the dip E vede un primo Un primo segno Magari ci prova Dici arrivo fin qua Poi casomai chiudi stop a zero Però non è un investimento Lento Cioè dici Io investo E sto tranquillo E poi dormo su due commerciali È speculazione Qui stiamo parlando di Quando siamo pronti Per investire Non siamo ancora pronti Qua Adesso se riusciamo a sperare Che dopo ci fermiamo Quando spiegherò Quando è che siamo pronti Dai diciamola Quando iniziamo anche a rompere Tutta questa zona qua Oppure Comunque Insomma Facciamo un altro po' Di struttura E poi finalmente Ritorniamo qui Ok Quando noi siamo In questo punto qua E vediamo già Delle strutture Che iniziano a ripartire Da questo punto qua Uno Qui Vedete già Può fare Non solo un buy the dip Ma anche un acquisto Più ragionato Su un ribasso Perché comunque Magari ti tiene il livello Dimostra di tenere il livello Però è già un po' diverso Da un buy the dip Diciamo sul falling night Ad esempio Qui ci sta un po' di più Perché c'è più conferme E poi il prezzo è sceso Veramente tanto E non è una shitcoin È bitcoin Sulla shitcoin La valutazione Il prezzo è sceso Veramente tanto Non la farei mai Su bitcoin Sì Anche all'epoca Infatti io Compravo All'epoca qua Comprato Ovviamente Però ho comprato anche qua E attenzione E non è che ero stato bravissimo Perché ho comprato qua Ho comprato anche prima E mi sono trovato sott'acqua Ovviamente Però chi se ne frega Tanto Ero tipo Moonboy inside Chiamiamoci così Ecco Speriamo Ecco vedete Qui c'è poi Il secondo ritracciamento Classico Vedete un classico Sì sì Fa il primo tentativo Però poi Qui c'è il secondo ritracciamento Qui siamo sempre Short Sempre Nonostante tutto Siamo sempre short Faccio un po' di click click Perché sennò poi Mi va avanti all'infinito Tutti gli indicatori Sono short L'indicatore ciclico Sta girando A rialzo Non ce la fa Vedete Sempre short A certo punto Vedete C'è questa roba qua Che ovviamente Inizia a rompere Almeno questa lateralità qua E si può vedere Io adesso ad esempio Se uno vorreste fare Una roba più Aggressiva Io potrei anche dire Entra Entra sopra qua Oppure Vabbè Aspetta qui Se vedi che veramente Tiene Ci riprovi Poi è una entrata Però se non Ripetiamo Qui stiamo vedendo Una Diciamo Una view In cui Sì siamo Abbastanza tranquilli Che compro E basta Il trend è cambiato Eccetera Perché se uno poi vuole fare Altri tipi di strategie Non è quello Lo scopo Di questo Del primo punto Delle nostre strategie Per prendere la bull up E le core Ecco adesso Qui Come ho già detto Anche la rottura qua Si poteva prendere Però in realtà Non è ancora cambiato niente Finché non andiamo Verso la rottura di questa zona Fino alla rottura Della zona Quattromila Al di là di questi indicatori Ecco Discrezionalmente Parlando Secondo Una logica Di buon padre Di famiglia Diciamo Di trader Di trend Is your friend Eccetera Eccetera Finché non rompiamo Questa zona di bottom In teoria Non ci siamo Cioè nel senso E siamo ancora a rischio La rottura Di questa zona di bottom Confermerà effettivamente Un cambio trend Questa è Poi se uno vuole fare strategie Anche nella zona di bottom E già posizionarsi Non dico che non debba farlo Perché bitcoin Rimane bitcoin E tutto il resto è un cazzo E quindi può farlo Ovviamente Perché qui ha già avuto Molte conferme Che il prezzo Sta tentando di tenere Ok Va bene Però In realtà In realtà Bisognerebbe aspettare La rottura Della zona di bottom Per essere più tranquilli Perché vedete che anche qui Torniamo Eccolo qua Vesta Vedete Uno Magari si poteva mettere O gli ordini passivi qua E da qui Qui siamo assolutamente Long Quindi siamo andati Long sul ciclo trimestrale Diretto Long ciclo trimestrale Long Vedete siamo verdi Sul money flow Il Questo è andato Su to the moon Siamo sopra La ssl E ve li eravamo Già sopra da un po' Però capite Anche se uno qua Poteva comunque Già comprare Perché eravamo sopra Questo era sopra a zero Questo diventava verde Sì Assolutamente sì Però Tecnicamente Discrezionalmente parlando La vera rottura Di questa fase di bottom Cambiava le cose Ecco Giusto per Per dire Che poi adesso È andata bene così Ovviamente E alla fine Avevi un acquisto qua Bello E io vi dico già Avrei assolutamente fatto Questo acquisto qua Assolutamente Cioè E All'epoca l'ho fatto Sicuro Però l'ho fatto anche tutto qui Cioè non stavo neanche tanto A guardare Questo tipo di situazione Cioè il prezzo era ottimo Io ho comprato Però capite il senso Della cosa Poi se uno vuole essere Più conservativo Comprava qui Eh ma Alla fine cosa ti cambia Cioè Teoricamente Sì ok Qui è un ottimo acquisto E qui praticamente Guardate C'è già stato Un 27% Però Se tu eri in questa situazione qua In questo periodo Tu volevi rivedere I bitcoin 10.000 20.000 E E devi sempre bilanciare La coperta è sempre corta Cioè Cioè o compri più basso Bitcoin Ecco Questa è la mia Però vedete Questa è una roba soggettiva Vi dico io Non una roba Veramente oggettiva Oggettivamente parlando Con tecniche di trading Normali Trend is your friend Trend line Volumi La rottura Della fase di bottom E l'entrata Con anticipatori Come gli oscillatori L'indicatore Vedete che tutti Avevano girato Sostanzialmente Da queste parti qua Perché vedete Che qui è solo Sporcato La SSL hybrid Qua è diventata verde L'indicatore ciclico È iniziato a pompare Parecchio qui In questa zona qui E qui guardate Che bomba Che ha fatto Il money flow Che ha rotto Tutti i massimi precedenti Quindi qui Era la situazione In cui ci stava Comprare E l'avevo anche detto Mentre eravamo qui Che andava da solo Io ho detto Ah io se mi rompe questo Io comprerei comunque Ho una prima indicazione Però ecco Adesso Che abbiamo capito Quando comprare Che sembra quasi La cosa più difficile Invece forse La cosa più facile Perché insomma Il prezzo è basso Il tutorial è ribassista E ad un certo punto C'è un segnale Compro in punta E quando vendere Perché adesso Ad esempio Andiamo avanti E vedremo La situazione Di questa Piccola bull run Che poi è finita È finita E poi C'è stato anche Un corollo covid Quindi rimanere dentro Non aveva senso Cosa che io in realtà Ho fatto Non è vero Cioè nel senso Che io quando ho fatto C'è stato il pump Di giugno e luglio Del 2019 Me lo ricordo bene Ho fatto un bel po' Di cassa E mi sono fatto Una vacanza a Santorini In un albergo Che costava Oltre mille dollari A notte Per festeggiare Quello è venuto Perché è stato Perché è stato in umbermarket Pazzesco Una vita Ho comprato Un sacco di roba E ho detto Basta Adesso vi faccio Una vacanza a Santorini Nella classica Nella classica view Con la piscina personale Riscaldata C'è una figata Pazzesca E ho detto Basta Adesso faccio Una spivata Assurda Lancio Un po' di soldi Perché non ne potevo più Di stare sott'acqua E quindi Ho fatto cassa Però non avevo venduto tutto Allora Vediamo qui C'è stato un primo Grande impulso Qui inizia ad andare Un po' giù L'indicatore ciclico Però vedete qua Il money flow è ancora alto Siamo ancora sopra La SSL hybrid Qui non si esce C'è un ritracciamento Del cavolo Vedete Non si esce E anche come Insomma Le strutture tecniche Eccetera Sì ho capito Ogni tanto ritraccerà Ma non ha rotto Niente di significativo Quindi qui continuiamo E stiamo dentro Aspetta che io faccia Un attimo pausa Perché questo va avanti Da solo Adesso va avanti Solo 4 mesi Qui vedete Continua l'impulso Qui c'è un grave Ritracciamento Però guardate Quanto distante Sta SSL hybrid Cioè starei ancora dentro Vedete La va a toccare La va a sporcare Adesso però Attenzione Io riuscissi A mettere pausa Adesso però Inizierei a stare più attento Perché qui c'è stato Comunque un brutto Ritracciamento Non è stato Ritracciamento Adesso starei Molto più attento Adesso io qui Adesso vorrei fare Un po' di analisi Ma non ci riesco Sicuramente qui Bisogna uscire Ve lo dico già Qua bisogna uscire Però se non si ferma Sto qua Maledetto Eh No qui Qui era uscire Eh purtroppo Non sono riuscito A farvi l'analisi Adesso ve la faccio Se non si ferma Facciamo così Lo chiudo Dov'è che siamo qui A 8 luglio 2019 Beh uno Facciamo finta Che uno aveva messato L'uscita qua Ci stava comunque Aveva messato L'uscita qua E comunque Doveva uscire qui Sostanzialmente Però questo Non si ferma Facciamo così Allora 7 luglio 2019 Basta Non vuoi andarmi Avanti all'infinito Io come faccio A fare un'analisi Di questa situazione Basta Panico Totale Ho parlato Per niente 22 minuti Perché Bitcoin Non voleva uscire Oh dai Niente Dobbiamo tornare indietro Perché comunque Lì bisogna uscire Andiamo a Giugno Luglio 2019 E la valutiamo bene Perché il punto Alle volte È anche l'uscita La gente non esce E poi si ribecca In faccia a tutto Questa è la sostanza Perché i mercati Aggressivi Sono così Soprattutto quelli Della coin Tra l'altro Ti fanno Il 2000% Dice Ah che figo Adesso voglio Dogecoin a un dollaro E Dogecoin ti crolla E alla fine Tu eri sopra Di mezzo milione E ti ritrovi di nuovo sotto Ecco Da queste parti qua Vedete Allora qui Iniziamo a ragionare Su una questione Che Qui si va su Arriva un prima candela rossa Prima candela rossa Cosa fai? È una rondina E non fa primavera? Anzi Siccome è rossa Diciamo Un fiocco di neve Non fa l'inverno Beh in effetti sì Però Aspettiamo Un attimo C'è il primo grave Ritracciamento Questo comunque È abbastanza grave Come ritracciamento Perché comunque Guardate Fa un brutto ritracciamento Brutto ritracciamento Però uno rimane ancora dentro Perché vedete Che comunque Anche se qui Ha fatto un eccesso Strutturalmente parlando È qui che non deve andare A perdersi la struttura Perché poi perde tutto A ribasso Eccetera Quando arriva il primo ritracciamento Tu non puoi saperlo Cioè Non è inutile uscire Ogni volta che c'è una candela rossa Se no Che cosa hai capito? Qui però Devi iniziare A stare attento Questa è Qui adesso Anche la questione Del money flow Bisogna stare più attenti Perché comunque Il money flow Adesso è andato Veramente tanto in alto Quindi aspettare Che diventi rosso Sei già in bear market Devi vedere Se il money flow Cambia trend Più che vedere Che vada rosso Perché sei già In grande Espansione Hai già fatto Una percentuale assurda Qua Il money flow Devi più che vedere Il rosso Vedere un cambio trend Sul money flow Un cambio trend Anche sul Sull'indicatore ciclico E questo Vedete come è distante Questo ora Che ti arriva lì Insomma Hai perso Che la parte Di tuoi guadagni Quindi questo è già Poco meno rilevante Mettiamola così E devi agire Di analisi tecnica Quindi andiamo Un passo passo Più lenti Mettiamo un Uno per Ecco Allora qui Continua ad andare Il ritracciamento Però Anch'io qui Teoricamente Inesimerebbe già Preoccuparsi Allora Già questo rimbalzo Secondo me Ovviamente Sono troppo veloce Di nuovo Secondo me Già questo rimbalzo Qui bisognava uscire Dal mio punto di vista Vedete che poi Anche l'SSLA Ha questa funzione Anche delle frecce Per carità Io non lo uso mai Però vedete Da questo punto in poi Bisognava già uscire Perché vedete Che qui C'è il nostro Moniflo Che inizia a fare Vedete Uno scarico Tentativo Lower high Cambia il trend Cambia il trend E Guardate l'indicatore ciclico Va verso lo 0 Però quando va verso lo 0 Si è già messo male Perché era già andato Tanto up Quando vanno tanto up Poi quando devono scendere Ovviamente ci mettono un po' Comunque Ovviamente Siamo andati veloci E ci siamo persi Questa uscita Mannaggia Ce la siamo scappata E ci ha fatto un altro Ritracciamento Siamo fregati No Non andiamo in panic sell Ormai questa cosa Ci ha fregato Quindi aspettiamo Un altro po' Vediamo il prossimo Rimbalzo No Perché vedete Comunque È andato a scaricare Dove c'è L'SSL Hybrid Che è ancora verde Questo comunque È un brutto È un brutto ritracciamento Dal top 30% Adesso Comunque Siamo rimasti fregati Non siamo riusciti A uscire di qua Ok Visto che siamo andati così veloci Noi eravamo rincoglioniti Al mare Abbiamo beso Un'altra gamba Ribassista E ci siamo E ci siamo Un attimino scottati Da questo punto in poi A questo Vediamo dall'inizio Della partenza Di tutto Il nostro Il nostro pump Che è circa Da queste parti qui Probabilmente Siamo verso La chiusura Di un trimestrale No Siamo vicini Alla chiusura Di un trimestrale Quindi qui potrebbe fare L'ultimo rimbalzo Riguardo invece A Il top Vediamo il top Del trimestrale inverso Che è un po' Tutto confusionario Qua Probabilmente Probabilmente Bisognerebbe fare Un'analisi fatta meglio Questo è Probabilmente Uno degli ultimi top Del trimestrale inverso Qui probabilmente Fa un top Insignificante E crolla Esatto Top insignificante E crolla Qui abbiamo L'altro top Probabilmente Da queste parti Quindi guardiamo Anche un po' L'analisi ciclica Qui siamo Questo qui è stato Un altro top Il trimestrale inverso Probabilmente Quindi qui Probabilmente Potremmo aspettarci Un altro top Che questo è il centro Quindi Forse siamo salvi Ovviamente Quando uno è In questi punti qua Fa più analisi Non è che fa Il replay La velocità della luce Probabilmente anche se Non siamo riusciti a uscire Probabilmente dovrebbe fare Almeno una roba così Perché Da questo punto in poi Qui è troppo presto Questo è un mezzo trimestrale Probabilmente Ci fa un altro top Probabilmente Però non è detto Che faccia un nuovo massimo Quindi adesso Io starei molto attento Perché vedete Come sta scendendo Velocemente Il money flow Sta tagliando L'indicatore ciclico Ormai è praticamente Sotto zero E il nostro SSL hybrid Sta tenendo A malapena E su questo trend qua Vedete Abbiamo perso la trend Stiamo facendo anche Un retest dal basso Quindi già adesso Io qua inizierei a pensare Ragazzi mi sto cagando addosso Uscirei Però Esco Quando magari A sto punto Visto che Sono rimasto qua dentro Uscirei a sto punto Quando magari Ad esempio Continuo a ribasso Quindi vediamo Continuo a ribasso o no Andiamo a vedere i volumi Dov'è che io qua Posso veramente cagarmi addosso Su questi volumi Che se li perde Sono finito Vedete Qua sotto Quindi io A sto punto Visto che mi sono trovato In questa situazione E non volevo trovarmi Perché sarebbe stato Da uscire qua Ve lo dico già Però Visto che mi trovo in questa situazione Io qua sotto Inizio a cagarmi sotto E esco Ecco Andiamo a vedere un attimino Come va Se no intanto La serie è andare un po' su Perché teoricamente Forse Riusciamo a fare un altro top Un altro double top Una roba del genere Vediamo se sarà vero O no Non me lo ricordo Mi sa che si Ecco Continuiamo ad andare un po' su Qui abbiamo un altro punto Di riferimento Perché qui ad esempio Io già Io già sono Nella proiezione mentale Che voglio uscire Il prima possibile Quindi io uscirei qua Vediamo Boom Diretto Sono uscito Basta Fine Adesso qui Per me è tutto short Teoricamente Non ancora short Perché deve confermarmi L'inversione di trend Eccetera Però per me Basta Finita Mari farà un altro pump Non lo so Però Io sono già fuori Basta Chiuso i giochi Qui Quando è che siamo 6 Mi sa che ho visto Prima il 9 luglio Facciamo un altro top Però Ci sta a uscire In maniera conservativa Piuttosto che rimanere Incastrati Infatti guarda Tenta un altro top Tenta un altro top Vediamo Comunque un top fake E poi Ti gira tutto a ribasso E bene o male Esci poco dopo Magari Potrei uscire Un po' meglio qua Però qui Comunque era difficile Uscire lo stesso Perché o uscivi In sell the top Che ci stava Perché ormai Hai la tua idea Ribassista Diciamo Mari puoi fare Un scalare Esco lo stesso Perché ormai Vedete È troppo ribassista La situazione Quindi fai un sell the top Sostanzialmente Però La vera indicazione Di nuovo Che si scende Praticamente Arriva nello stesso livello Più o meno di prezzo Di nuovo Quindi O scegli Un sell the top Che qui teoricamente Ci sta Sell the top Perché dici Guarda C'ha già un top a punta Qua ci mette una vita a arrivare Io sai cosa faccio Io vendo qua Per sicurezza Ci sta Se poi mi rompe qui Rientro E se Io ho venduto tutto qua E mi sbaglio E mi rompe qua Perdo Un 15% Se invece Praticamente Mi crolla Vedete Come siamo Già a meno 15% Quindi Dov'è che ho l'indicazione A sotto 15% Dov'è che ho l'altra Indicazione Che mi sono sbagliato Sopra 15% Quindi Quindi sostanzialmente La zuppa È simile Perché poi È più probabile Che si scenda Perché è più probabile Che si scenda Perché vedete Qui c'è un top a punta È passata una vita Perché ormai qua È passato un sacco di giorni 13% Ed è poco probabile Che ce la facciamo A rompere di nuovo A rialzo Visto che comunque Abbiamo fatto un impulso Pazzesco Visto vedete Come è messo Il money flow Che sta in crollo Praticamente Non ce la fa più A salire Visto che La SSL Hybrid Ormai È lì vicino A non tenere più Ovviamente Se noi andiamo A time frame più bassi Sarà tutto Completamente Super negativo Se vuoi avere Con ferme più basse Ti metti a un orario Ti un'ora Sicuramente Uno che sta sul pezzo Ogni giorno Lo vede Qui sull'orario La situazione È molto peggiorativa Vedete Qui c'è un grand pump Qui rosso Qui robetta La SSL Hybrid Qua vedete Perde continuamente L'impulso L'indicatore ciclico Ha un top qua E non li fa più Ci sono un sacco Di segnali Negativi Chiaramente Poi Se uno vuole essere Anche qui Con la stessa situazione Che vi ho raccontato Del bottom E uno dice Guarda Io ho il bottom Qui mi piace il prezzo Lo compro lo stesso Super bottom Appena ho delle conferme Che il prezzo tiene Può ragionare Con la stessa situazione Sul top Sul top Quindi fa il top Poi guardo Che fa il retest Sul top E dice Il prezzo mi piace qua Perché vedete Che tiene E non credo Che vada oltre E vendo il top Ok E' lo stesso ragionamento Del buy the dip Sell the top Però se uno invece Voleva essere Come dicevamo qua Con la situazione Del bottom Mettiamo il giornaliero Come dicevamo qua Con la situazione Del bottom Qual è la conferma definitiva Che cambia il trend La rottura Del bottom Di tutta questa roba qua Quindi da qui in poi Diciamo che uno Allora dice Boh Sono sicuro E compro La stessa cosa Più o meno Avviene con il top La stessa cosa Avviene con il top Cioè qual è Il punto di conferma Definitivo Che Boh Si si crolla E basta Teoricamente Deve romperti il top Deve romperti questa zona qua Che ovviamente I volumi Sono tutti annidati là Vedete I volumi Si carica Magari Li abbiamo visti prima Sono tutti annidati qua I volumi E quindi è chiaro Che alla rottura di questo Cambia proprio tutto Alla struttura di top Cambia tutto Quindi se uno vuole fare La situazione più conservativa Sia in uscita Che in entrata Comunque Si sparava Un 120% Se voleva fare La situazione un po' più aggressiva Ad esempio Faceva il buy the dip qua Non qua Qua Perché qui c'è la conferma Vedi qua Magari anche la candela successiva Però prendiamo La situazione un po' più ragionevole Faceva il buy the dip qua Tac Qui E poi faceva Il sell the top Al secondo Magari ovviamente Non al top top Quando vedeva che la candela Di giornalino Si ritirava E faceva però Il 268% E' una gran differenza In effetti Perché? Perché la gran differenza Si fa soprattutto qui Perché comunque Da qui Diciamo Da questa zona qui Vedete magari Questa candela qua Che rompe Quindi magari la prendi alla fine A qui Ti facevi già un 20% 22% E poi anche qui Dal vendere qui Diciamo La chiusura Al vendere qua sotto E' un altro 20-22% Che non sembra Però Comparati E' tanta roba Ecco Questo è un esempio Di come si può dire Ciclo settimanale Short o long Vediamo invece Un esempio Più vicino a noi Ad esempio Quando eravamo Quando eravamo Ad esempio Nella prima parte Della bull run E vediamo soprattutto L'uscita Perché l'entrata Abbiamo detto E' uno compra Grazie al cazzo Grande compra Grazie al cazzo Ecco Questa sostanza Però vedete Qui ad esempio Senza che facciamo Una super analisi tecnica La price action del 2019 Io la so E la conosco E me la ricordo Quelle invece Tante secondo me Non erano ne ancora Arrivate sul mercato La price action Invece del 2021 Penso sia bene stampata Nella memoria Di tantissimi Quindi Ci metterò un po' meno Però anche qui Vedete come Dopo tutta questa cavalcata La situazione Vedete Senza che adesso Mettere play Qui Potevamo già fare una trend Rialzista E qui vedete Che iniziavamo A non fare più Grande ai massimi Quindi Stava facendo Praticamente Una wedge Andiamo un po' più avanti Qui ok Fa il nuovo massimo Quindi uno può anche Spostare Questa trend Un po' così Impotesi Però vedete Come i massimi Iniziano ad essere Sempre più deboli E i minimi Sempre più aggressivi A un certo punto Già a questo punto qua Sono su 4 ore Già uno iniziava A preoccuparsi Vedi Però come al solito Non esce subito Stessa situazione Quando arriva il primo scarico E oltretutto Non ti rompe Comunque tutta la struttura Non ti rompe Comunque tutta Sta struttura Quindi arrivano I primi scarichi Qui ancora Non lo sai Sì c'è un volume qua Ma c'è anche un volume qua Capito Non lo sai Aspetta al rimbalzo Al rimbalzo Qua ti rendi conto Di cosa Quindi comunque Analisi tecnica basica Unita Adesso mettiamo Gli indicatori Ecco Quindi abbiamo La nostra Vedete Qui Già diventa rossa Perché qui Già da tempo Che iniziamo a essere Poco forti Qui era Vedete La distanza Era parecchia Qui iniziamo a essere Forti da Un po' troppo tempo Quindi Mettiamola così Se uno voleva fare Un'uscita aggressiva Qua ci stava già Magari non qua Che ne sai Ma qua sotto Ci poteva anche stare già Perché effettivamente Vedete che Trend is your friend Stava crollando I volumi di top Erano tutti qua Qui fa addirittura Rottura Retest Qui i volumi Il money flow Inizia ad essere rosso Eccetera Però in realtà È tutta una struttura Di top È ancora un po' prematuro Diciamola così Un po' prematuro Continua ad andare su Comunque stai attento Qua sotto Se arrivi veramente in ritardo Ti tocca uscire qua sotto E vedete la situazione Cioè qui O uscivi qui O cavolo Iniziavi a perdere Un sacco di percentuale Però teoricamente Funziona sempre Così C'è un rimbalzo Al rimbalzo Cosa fa Il rimbalzo Valuti Qui rimbalzo Ritorna verde Bla 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 Vedi che qui Non ce la fa Inizia il money flow A diventare rosso Inizia a riperdere La SSL hybrid L'indicatore ciclico Va giù E poi Semplice trendina Perdi questa zona Di top Qui magari fai anche Questa schifezza È l'ultima conferma Tenti di andare su Però poi ti gira Ribasso Rottura Vedete come arrivano Le candele rosse Ecco Questi sono i modi Number one Diciamo Strategia basica Compro o no Bitcoin spot Vendo Bitcoin spot Per capire Quando uscire O entrare Anche qui Se uno faceva Magari In una situazione Aggressiva Cosa poteva fare Al crollo Covid Magari Come al solito Non riesce a comprare Il bottom assoluto È sempre così È difficile Comprare il bottom assoluto Però vedete Qui c'è Una zona di bottom E fa il doppio Il bottom Quindi Bottom Mega spike Super aggressivo Poteva già comprare In questa zona Esempio Compro già in questa zona Super aggressivo Un po' meno aggressivo Come di nuovo La situazione prima Era la rottura Della fase Di tutta questa zona Quindi comunque Qui ci stava Alla fine Non è che c'è Un cambiamento Epocale di prezzo Quindi diciamo Che avrebbe comprato qui Qui non c'era mai Una situazione Che ti diceva Esci Mai Sappiamo già Con il seno di poi Senza che stavo qua A analizzare Quindi praticamente Entrava qua sotto Se volevo uscire Aggressivo E dal mio punto di vista Ci stava Uscire aggressivo Perché comunque Guardate che roba Cazzo di rally è Cioè nel senso È pazzesco no Quindi Qui già Uno poteva uscire Attenzione Però qui cosa succede Qui hai fatto già Un mega impulso E qui come al solito Cosa fai Aspetta Aspetta almeno Il rimbalzo Per capire Veramente Cosa vuoi fare Da grande No Ci sta Perché qui comunque Eravamo già Ancora Solo a gennaio Ci sta Ci sta che poi Riparta qualcosa Per marzo Settembre Quindi qui Comunque si Si poteva uscire Però Avrei Avrei più controllato Onestamente C'è tanto margine Quindi io O facevi L'uscita aggressiva E uscivi quassù Diciamo Da queste parti qua O qui O qui O qui Qui facevi 1000% Qui facevi 600% Pur aspettare Con quella conferma Che comunque Più o meno Era la stessa E uscivi Con 80% 800% Che schifo Non ci faceva Ecco Poi di nuovo Qua facilissimo Qui c'è stata Il mini Bear market estivo Anche qui Trend is your friend Trendina O alla rottura Della trendina O alla rottura Diciamo Di tutta questa fase Di bottom Rientravi Guardate come Spompa Money flow Entravi Qua uscire Troppo presto Troppo prematuro Quindi ti beccavi Magari il ritracciamento Se uno Se volevi essere Aggressivo Si poteva fare Lo stesso Perché qui Iniziavano a essere Pericolose le cose Però Tento per dire Facciamo che stavi dentro Ci stava Stavi dentro E poi qui Di nuovo La stessa cosa Diciamo Trend is your friend Oppure la rottura Di tutta la fase Dei volumi Qua Vedete Che poi qui Ti ha dato Una marea Di retest Tra l'altro Quindi Retest Retest Se ancora non eri convinto Ultimo retest C'è più di così Capito Perché qui Avevi perso I volumi Li avevi ritestati Dal basso Quindi comunque Ti dava un sacco Di possibilità Io qui Da questo punto di vista Bisogna essere onesti Io qui Non sarei mai uscito Su questo top Perché Finché teneva Questa struttura Uno rimaneva Bullish Fino a prova Contraria Dai Quindi qui Sul top Non metto neanche La possibilità Che usciva Quello spot Dal top Poi uno faceva Magari la speculazione Di breve Però dal mio punto di vista Era più logico Uscire qua sotto E magari con un retest O due o tre Era più logico Lì Dai Diciamo la verità Quindi faceva così 65% Che anche qua Schifo non fa E poi Bisogna anche essere Un attimino più Realisti Dal mio punto di vista Qui Con tutta questa situazione Qui Appena ti rompeva qui Entravi un po' prima Onestamente Entravi un po' prima E uscivi da queste parti qua 77% 80% E qui Sicuramente L'indicatore Mio ciclo Trimestrale Sarebbe andato on E qui Sarebbe andato short Ecco Tutto qua E' un esempio Di come Della prima strategia Semplicemente Bitcoin on Off Strategia Di investimento A lungo termine Che poi è lungo Tu non lo sai Qui è durata Praticamente solo Un trimestrale E ti è toccato uscire Qui ad esempio Ti sarebbe durata Quasi praticamente Un anno Perché dal crollo Covid Te le saresti tenuti Un anno Fino praticamente A maggio O marzo O aprile O maggio Del 2021 Cioè tu non puoi sapere Sta roba Però Quali che dicono Investo nel lungo periodo Perché Pim pum pam Roba di anni Sì ma tu non lo sai Cioè Devi vedere il grafico Quando ti dà Queste indicazioni qua Esci Per Dio Esci No Io 5 anni Ma 5 anni Non lo so Dove cazzo siamo Cioè Questo è comunque Un investimento Di lungo periodo Perché poi Se ti cambia Il lungo periodo Come qua Guarda cosa ti succede È investito per 5 anni È perso tutto Tutto è perso Aveva senso No Non aveva senso Perché poi uscivi qua E poi avevi il cash Te lo tenevi pronto Fin quando Fin quando Ti dava di nuovo Un segnale long Quando te lo dava Te lo dava da queste parti qua Di nuovo O qua O qua O qua Ecco Va bene Per questa prima strategia La primissima strategia Del nostra strategia Di come prendere La buram per le corna È tutto E ci sentiamo Alla prossima Ciao Ciao